Seconda osservazione C'è un libraccio grosso intitolato Semantica Biblica di James Barr, è uno studioso anglofono il quale dedica 70 pagine a spiegare il verbo essere nelle lingue semitiche. Haià, vocabolario, haià uguale essere, punto, chiuso. Lui fa 70 pagine, chiaro? A noi basta una riga, vocabolario, lui invece adopera il metodo del uso del vocabolo e per spiegare 70 pagine, dove dice con estrema chiarezza che il verbo essere in ebraico non è copula. E per dimostrarvi questo, vediamo se riesco, sì, linea 115. A qualcuno viene male, ma non importa. Se non volete che vi venga male, andate alla linea 116. Ditemi che cosa vedete. Vedete il verbo, prima persona singolare del verbo essere indicativo presente, tagliato. Perché in ebraico non c'è. In ebraico voi trovate io, Yahweh, tuo Dio. Adesso andate alla linea 115. Ovviamente si incomincia sempre da destra. Lasciate stare quel samec che indica l'inizio di una pericope sinagogale. Il numero due è il numero del versetto, quindi non c'entra. La parolina che trovate dopo si pronuncia anochie, vuol dire io enfatico. Padre Eterno ha un io ipertrofico. Noi diciamo ani per dire io, e lui giustamente dice anochi, scusa, ha ragione. Anochi è la forma solenne, enfatica, della pronome personale, io. Ciò che trovate dopo è il nome di Yahweh. Però chi è all'inizio dell'ebraico stupidamente leggerebbe Ye, Va. C'è lo Iot, quella specie di apostrofetto, poi ci sono i due puntini che è una E semimuta, poi c'è l'H, che è il rettangolo senza la base, poi c'è il bastoncino con una specie di T maiuscola sotto, Uau e A lunga. Quella L maiuscola piccolina rovesciata è uno dei 40 accenti che ha l'ebraico. Quindi, siate perdere. E l'ultima lettera è un H, il rettangolo senza la base. Così come sta scritto si legge Ye, Va, ma neanche per scherzo, nessun ebreo leggerebbe così. Infatti, andate la linea 112. Guardate l'ultima parola di destra e confrontatela con la seconda parola della linea 115. È identica. Riuscite? È identica, solo che non c'è l'accento. Alla linea 112, l'ultima parola di destra, quella fra parentesi, è fatta da un Iot, che sarebbe quella specie di apostrofino alto. Sotto avete due puntini verticali. Poi avete il famoso H, che è il rettangolo senza la base. Poi avete il bastoncino. Poi avete il T maiuscolo sotto, che è una A lunga. È un Kamez. E poi avete un altro rettangolo senza la base, che è un H. Se voi guardate la seconda parola della linea 115, buttatevi all'accento, che è quella L mignon rovesciata, il segno è lo stesso. Ci siete? Ci siete. Però questo segno della linea 112 è il prodotto finale di un minestrone. Avete le consonanti di Yahweh, ma le vocali di quel nome che trovate nella terza colonna partendo da sinistra, che è Shema ed è aramaico e significa il nome. I nagdanimi puntatori, quando hanno messo le vocali sulla Bibbia, perché originariamente non c'erano, Gesù leggeva la Bibbia senza vocali, e San Paolo anche, e anche Ireneo di Lione, nel secondo secolo, e anche San Girolamo, nel quarto secolo, leggeva la Bibbia senza vocali. Cominceranno, verso la fine del quinto secolo, dopo Cristo, a mettere le vocali. E quando le hanno messe, trovandosi davanti al nome di Yahweh, hanno fatto il pataracchio, di proposito, perché il nome di Yahweh non si pronuncia. Allora hanno lasciato le quattro consonanti di Yahweh, e hanno messo le vocali del nome sostitutivo. Per cui, Ieva, loro non lo pronunceranno mai, pronunciano Shema. Quando trovano scritto Iehova, pronunciano Adonai, linea 111. E quando trovano scritto Iehovi, pronunciano Elohim, linea 113. Dunque, tutte queste belle cose ci dicono un dato importante. Hayah, verbo essere, da cui deriva il nome di Dio, perché se voi notate, alla linea 7, l'ebraico ha lo stesso disegnetto della linea 3. In greco, O-ON. O-ON, non è il Dio O-ON, è il participio presente, un pezzettino del nome di Yahweh, tradotto in greco. E poi, alla linea 13, avete finalmente il tretagramma sacro, che in greco viene tradotto con Kyrgios, Signore, per cui latino Dominus, italiano il Signore. Quando nell'Antico Testamento voi trovate la parola il Signore, sappiate che in ebraico c'è Yahweh. L'impostazione del testo è fatta di proposito. Chi ha scritto il brano ebraico di Esodo 3, di proposito ha voluto questa ripetizione, perché si capisse che il nome Yahweh deriva dal verbo Hayah, essere, il quale non è mai copula, ma indica sempre trovarsi. Io sono in cattedra, io mi trovo in cattedra, tu sei, verbo essere, sulla sedia, tu ti trovi sulla sedia. E allora provate a tradurre, Hayeh, Hayeh, Ashery Hayeh, io mi trovo che io mi trovo. È impossibile in italiano tradurre. Anzi, vi dirò di più, in questo caso, essendo un Ictol, io mi trovo colui che io troverò o io mi troverò. Un obbrobrio. Il concetto, invece, è molto chiaro. E il concetto chiaro lo troviamo, appunto, in Esodo 20, capitolo 20, versetto 2, e quindi linea 105, per chi vuole, invece, la traduzione, linea 116. Provate ad esaminare questo testo. Io, linea 116, io, Yahweh, tuo Dio. Che cos'è tuo Dio? È una posizione. Ci siete? Che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile è una relativa che chiarisce la apposizione. Mi seguite? Perfetto. Adesso andiamo a passeggio nella mitologia dei popoli circonvicini ad Israele. Babilonesi, abitanti di Ebla, di Ugarit, popoli cananei, moabiti, ammoniti. Facciamo un'esplorazione in mezzo a tutta questa gente simpatica. Loro definivano la divinità per il luogo che la divinità occupava o per il tempo che la divinità occupava. Per cui c'era il Dio della collina, il Dio dell'albero sacro, il Dio della primavera, anzi, la Dea della primavera, il Dio della guerra. Qui Dio viene definito come Dio come scritto. Noi abbiamo l'aggettivo in ebraico non esiste l'aggettivo possessivo, esiste il pronome che viene agglutinato al nome e infatti se voi andate a vedere la linea 115 per chi conosce un po' di ebraico voi trovate la parola Eloheka che sarebbe Elohim più Ka. Ka non è l'aggettivo possessivo ma è il pronome personale. Quindi vuol dire Dio di te non tuo Dio. Dio di te. Le altre divinità sono il Dio della collina, il Dio della guerra, la Dea della primavera, che so io è il Dio dell'albero sacro, Yahweh è il Dio di te. Questa è la spiegazione del nome di Yahweh. Yahweh chi è? È colui che è con te, colui che si trova con te. Ed è colui che agisce nella storia, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile. Condizione servile non esiste, in ebraico c'è la condizione dei servi. Va bene. allora mi diventa chiaro, tu Dio rendi contaminante di vita, il tuo trovarti tra gli uomini è nella storia. Tu Dio santifica il tuo nome, tu Dio rendi contaminante di vita, l'essere in mezzo agli uomini, il tuo trovarti in mezzo agli uomini e il tuo operare nella storia. questa esplorazione che abbiamo fatto l'abbiamo fatto seguendo la pista di Yahweh e se dovessimo seguire la pista di Padre sia santificato il tuo nome Padre avremmo bisogno di un'altra mattinata. la più bella figura di Dio come Padre come descrizione la trovate nella parabola del figlio al prodigo e quello che mi premerebbe di farvi notare è la linea 129 versetto 21 il figlio gli disse padre ho peccato verso il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio però se andate alla linea 128 vedete che la parte teatrale continuava trattami come uno dei tuoi salariati questo era ciò che il figlio aveva pensato di dire e se voi notate alla linea 130 questa ultima parte non c'è perché al padre girano i venerdì e cosa fa ma il padre disse ai servi proprio li stronca assolutamente il copione ma il padre disse ai servi presto portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare mettetegli l'anello al dito i sandali e i piedi prendete il vitello grasso volevo farvi notare proprio questo il padre li si gettò li corse incontro li si gettò a collo e lo baciò e poi non li lascia finire quello che lui aveva preparato questo è il padre rendi contaminante di vita il tuo essere padre per noi ma come esperienza storica non come concetto di dio padre come concetto a me non interessa niente a me interessa che mi faccia sperimentare la sua paternità allora mi va bene vi è chiaro concludiamo brevemente linea 150 questa parte la finiremo in paradiso però mi interessava a mostrarvi come questo versetto questo stico che abbiamo cercato di capire dimostra la presenza di dio nella storia di ogni persona secondo concetto dimostra la paternità di dio dio mi ha castigato balle dio non castiga si fa esperienza di dio non per il gusto di dire dio io l'ho incontrato che è comunque cosa bella ma è perché tu capisca che la tua vita non finisce con l'ultimo respiro perché esiste il regno di dio e quello è per te questa realtà parallela questa vita parallela è per te perché tu possa credere a questo facendone anche in parte esperienza devi chiedere a dio di percepirlo toccarlo vederlo nella storia